La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno e buon giovedì, ben trovati con il nostro appuntamento battutino con la rassegna stampa di Uno News. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, vediamo quali sono le principali notizie pubblicate dai giornali in edicola questa mattina. Partendo dal mattino nazionale vediamo che in apertura c'è l'indagine della procura di Napoli sull'immigrazione che vede coinvolti in particolare dei professionisti che avrebbero realizzato dei contratti ed altri tipi di documenti fasulli per consentire agli immigrati di poter restare in Italia. Vediamo il titolo di apertura che il mattino dedica proprio a questo argomento. La cricca dei migrantopoli, così apre il mattino, ecco le bande di professionisti e faccendieri che lucrano sulla disperazione degli immigrati. L'esclusiva del mattino dopo la denuncia del Premier alla procura antimafia. Cassetti fiscali e profili tributari finti hanno utilizzato le proprie competenze per creare cassetti fiscali, definire profili tributari e costruire contratti di lavoro fasulli. Ecco il sistema criminale che ha operato per anni nel Vesuviano e su cui indaga ora la procura della Repubblica di Napoli. Andiamo avanti, Meloni, il centro in Albania sarà operativa ad agosto, la visita del Premier con Rama. E a centropagina, ma sempre di spalla, troviamo l'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani. Napoli e il Sud hanno un ruolo centrale nel Mediterraneo. Forza Italia in Campania, una classe dirigente di qualità che si candida a governare la regione per imprimere un cambio di passo al territorio. Andiamo di spalla l'editoriale, scusate di fondo, l'editoriale del futuro e cricche del, cioè laboratorio, scusate, del futuro e cricche del passato. Questo per l'editoriale a firma di Roberto Napoletano. Nella fotonotizia a centropagina arriva l'ufficialità del nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte. Ieri la firma a Roma, vediamo, vado al massimo, la credibilità per tornare grandi e la strada tracciata dal Presidente. Ieri Conte ha firmato il contratto, le sue prime parole da allenatore del Napoli. Non vedo l'ora di iniziare e Napoli sogna. Andiamo poi in alto, sotto il titolo di testata, nei box, gran finale al San Carlo, Federico II, la festa per gli 800 anni nel segno del futuro. L'Università Federico II di Napoli compie otto secoli di storia. E poi, ancora verso il finale, premio strega Benevento, sfida a sei in pole di Pietrantonio. In basso, invece, siamo in Francia, pallone d'oro, asta congelata, primo round ai figli di Diego, la querelle sul trofeo rubato a Napoli. E lasciamo questa pagina, andiamo avanti, sempre sulle prime pagine, vediamo quali sono i principali titoli per il salernitano. Vediamo in apertura, graffitari, stretta antisfregi, multe fino a 500 euro per chi danneggia il patrimonio artistico-culturale di Salerno. Dopo i raid, misure rigide nel regolamento di polizia urbana del comune. E andiamo avanti, ancora, l'artista Trappening, ma è sbagliato, equiparare i gesti vandalici alla street art. Non si possono equiparare le azioni del writer con i danneggiamenti di Tukur, come le scritte volgari su un muro, dice lo street artist Trappening. E poi, ancora, siamo di spalla, sempre in alto, Unisa al top, il network della ricerca, protagonisti, la classifica degli Atenei. Di fondo, invece, l'ambiente, la villa di Fratte, la panoramica assediate dall'immondizia. E poi la scoperta, una tendopoli alla foce dell'Irno con gli invisibili sotto al ponte. L'altra faccia della città turistica si nasconde sempre sotto il ponte del fiume Irno. A centro pagina, calce alla nuca dai bulli, ventenne, finisce in ospedale il video del pestaggio consegnato insieme alla denuncia. La violenza a Marina di Cameroto. Un ragazzo poco più che ventenne, brutalmente picchiato a Marina di Cameroto, è finito in ospedale. Un episodio di brutale violenza ha sconvolto la tranquillità del lungomare cittadino durante una delle tre serate del meeting del mare. La sentenza nocera inferiore. Tiene la moglie prigioniere in casa, marito condannato a tre anni e mezzo. E poi andiamo nella fotonotizia. Il calcio per la salernitana. Petracchi, voglia di riscatto dopo quattro anni ai box. Ultimi dettagli da Limare con Iervolino. Andiamo in basso. La storia. Un dono speciale da Salerno per le nozze di Pietra. Un 81enne scrive al sindaco, chiede due sassi per ogni luogo visitato con la moglie. E poi ieri la festa dei carabinieri per il 210 anniversario dalla fondazione in rete con i cittadini per garantire sicurezza. Questo per la festa dei carabinieri a cui hanno partecipato anche numerose autorità civili e militari, oltre che religiose. Andiamo poi sulle cronache. Vediamo dunque quali sono i principali temi trattati dal quotidiano salernitano. Come sempre sono due i temi di apertura. Vediamo l'articolo a firma di Antonio Manzo. Si parla di fede e giustizia. Domani alla provincia il ricordo del giudice Pignataro a dieci anni dalla scomparsa. E poi Salernitana. Finalmente ci siamo. Petrachie ha detto sì. Colpo di Iervolino che ingaggia il DS. Il Genoa su Maggiore. Arriva a coda? Punto interrogativo. E poi l'intervista a Michela Brambilla. I comuni devono tutelare le colonie feline. riconoscere il lavoro dei volontari. Andiamo a centropagina. Residui importi non reali. Si dovrebbe far ricorso a qualche alchimia contabile. Forse pericolosa. Per quanto riguarda il bilancio del comune di Salerno. Capire se sia possibile di incassare quelli di più vecchia data. E poi ancora Pagani. 16 anni fa venne ucciso il carabiniere Marco Pittoni. Ad Agropoli ecco i nuovi vigili. C'è un candidato a Capaccio. E ancora siamo pari vincitori della terza edizione. Genovesi e il De Lorenzo. Per le altre notizie. Dagli Stati Uniti d'Europa. Caterina Miraglia in continuità con la lunga militanza politica. No al terzo mandato. E poi troviamo anche l'intervista a Lucia Vuolo di Forza Italia. A 40 anni di militanza sui marciapiedi del sud Italia. Sono in campo per voi. Queste le parole delle due candidate alle prossime europee. E questa è la prima pagina del quotidiano Le Cronache. Torniamo ora sul mattino nazionale. Andiamo quindi ad approfondire il tema di apertura. l'argomento di apertura per quanto riguarda le indagini della Procura di Napoli. Vediamo operazione Verità. Il coraggio di cambiare. Immigrati. La cricca di avvocati e fiscalisti per assunzioni fasulle. La Procura indaga su un'associazione di colletti bianchi. Manager Vesuviani fino a 15 mila euro per ogni contratto. E poi troviamo qui l'immagine della foto del mattino. in cui la Premier ha lanciato l'allarme proprio su questa situazione. Vediamo Meloni si rivolge all'antimafia. Dati allarmanti sui flussi di migranti. Ecco che cosa ha scatenato la richiesta di accertamenti del Premier. C'è un mercimonio. E poi da DAC a Napoli boom di nulla osta lo scorso 30 aprile. Aziende insistenti vogliono imbarcare decine di manovali. Andiamo ancora su questa pagina. In basso sfruttati per 12 ore al giorno a fabbricare vestiti e scarpe. Benvenuti a Bangla Campania. In regione sono 12 mila. Arrivano richiamati dai click dei datori di lavoro. Loro connazionali. E comincia l'inferno. Altro che paradiso. In 15 in una stanza. I primi mesi servono a pagare 10 mila euro al Dalal per il visto viaggio e alloggio. E lasciamo questa pagina. Andiamo avanti ancora sempre sul mattino. Parliamo ora della visita della Premier Giorgia Meloni in Albania. Vediamo. Meloni in Albania. Migranti. Modello Unione Europea. Lo scontro con il PD. La Premier con il Presidente Rama. Visita uno dei due hotspot. Le opposizioni. Usi i fondi per la sanità. E lei spreco super bonus. In serata torna ospite sulla 7. Su Mattarella. Borghi ha sbagliato ma zero lezioni dalla sinistra. E poi ancora il deputato spintonato. E Giorgia interviene. Mentre in basso salis mail e timori alla Premier. Ai domiciliari in ambasciata. L'avvocato Ilaria ha voluto tutelare la sua sicurezza. Quella della sua famiglia. E di chi la ospita. Sono bastate una manciata di righe. Scritte in un'email e poco più. Trasferitemi in ambasciata. Così con un gesto di distensione. L'Aria Salis. Docente attivista 39enne. Brianzola. Candidata all'Europea. Con alleanza verde e sinistra. Si è appellata ieri al governo. E lo ha fatto scrivendo per la prima volta direttamente alla Premier Giorgia Meloni. Per chiederle il trasferimento dalla casa della privata cittadina. In cui si trova attualmente ai domiciliari. All'ambasciata italiana a Budapest. Per questioni di sicurezza personale. L'email è stata inviata anche al Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. E al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. E lasciamo anche questa pagina. Andiamo avanti. Ancora sul mattino nazionale. Troviamo l'intervista ad Antonio Tajani. Per le prossime elezioni europee. Napoli e il mezzogiorno centrali nell'Europa. Ora più investimenti. Il Ministro degli Esteri è leader di Fratelli d'Italia. Riporteremo al Sud ricerca e centri decisionali. In Campania abbiamo una classe dirigente competente. Che può guidare questa regione. Ho già sconfitto i socialisti nel 2017. Noi della tradizione popolare moderata. Niente accordi con le penisti e AFD. Condivido l'analisi di Mattarella. Senza Europa saremmo soltanto l'undicesima provincia della Cina. E poi in basso Salvini telefona a Trump. Io perseguitato come il CAV. E lasciamo anche questa pagina. Andiamo avanti. Parliamo ora invece della lunga storia dell'Università Federico II di Napoli. la prima università italiana pubblica nata in Italia. Vediamo. Università Federico II, 1224-2024. Otto secoli con occhi rivolti al futuro. Napoli, Ateneo globale. Il segreto dell'istituto è del continuo aggiornamento. Ma è ancora da vincere la sfida del rientro dei giovani. Avanti così, 800 anni non sono solo una celebrazione, ma anche un nuovo inizio. E ancora, questi sono i commenti. È la grande casa dei napoletani che si sono formati in una istituzione straordinaria. Una storia di re, imperatori, filosofi, teologi, giuristi, letterati, medici, astronauti e santi. Nelle facoltà si formano eccellenze che vengono esportate verso i paesi esteri. E poi lo storico impegno dell'imperatore, fonte delle scienze e vivaio dei saperi. E poi qui troviamo l'editto dell'imperatore Federico II, datato 5 giugno 1224, che fonda l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. E chiudiamo anche questa pagina. Ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Bentornati con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo sui quotidiani salernitani, quindi vediamo le principali notizie per il salernitano. Andiamo sul mattino di Salerno. Si parla dell'anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri, le celebrazioni ieri anche a Salerno, in via Generale Clark. Vediamo quali sono stati i punti più importanti toccati nel discorso dal colonnello Melchiorre durante proprio la festa. Vediamo. Fare sistema con i cittadini per offrire loro sicurezza. Il comandante Melchiorre ricorda anche i giovani militari morti a campagna. Lavoriamo al fianco degli enti locali e di scuole, volontariato e associazioni. Quest'anno già 24 feriti in servizio, l'omaggio ai caduti, poi gli encomi ai militari distintisi nell'ultimo periodo. Vediamo una parte dell'articolo. Polizia di prossimità e diritto alla sicurezza sono stati leitmotiv del discorso che il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre, ha pronunciato nel corso della cerimonia di ieri per i 210 anni dalla fondazione del corpo. Carabinieri che, presenti nella nostra provincia, con due reparti territoriali, otto compagnie, tre tenenze e 91 stazioni, vanno incontro alle comunità facendosi carico delle esigenze di sicurezza, risolvendo direttamente le stanze o facendo in modo che chi ne abbia capacità o potestà le risolva. Sono queste le parole del colonnello Melchiorre. E andiamo avanti, ancora, circuito virtuoso, solo in questo modo, a parere del comandante provinciale dell'arma, potrà concretizzarsi un'avanzata prevenzione ma soprattutto innescare un circuito virtuoso che generi fiducia e consenso verso tutti i presidi dello Stato presenti sul territorio. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, ancora sul mattino di Salerno, parliamo ora di scuola con la natalità ancora con numeri molto limitati e questo mette a rischio anche le scuole. Vediamo. Emergenza demografica, nascita e il crollo continua, dati mai registrati. Solo 1831 neonati dal gennaio ad aprile in tutta la provincia di Salerno. Trema la scuola. In 14 anni persi circa 30.000 alunni, tante sedi di lavoro sempre più a rischio. Pochi allievi per mantenere immutata la rete scolastica, effetti già a partire da settembre. E poi a centro pagina, maturità con 16.000 candidati, ecco i presidenti di commissione, sono insegnanti e presidi con almeno 10 anni di esperienza. Ai nastri di partenza circa 740 classi con 580 privatisti. E poi in basso, Unisa, il network di ricerca è tra i migliori in Italia, noi sempre protagonisti. Nella classifica QS degli Atenei mondiali è il miglior indicatore per Salerno, buona performance nella sostenibilità. L'Università di Salerno brilla per la sua capacità di creare network nella ricerca scientifica globale. L'Ateneo Salernitano, infatti, conferma la sua posizione nella Quest World University 2025, la classifica delle 1.500 migliori università al mondo, dominata per il tredicesimo anno consecutivo dal Massachusetts Institute of Technology. Salerno si colloca nel range 801-850 della graduatoria generale. E lasciamo anche questa pagina, andiamo ora sulla pagina delle notizie della Piana del Sele, dei Picentini, del Cilento e del Vallo di Diano e apriamo con il caso di cronaca che si è verificato a Marina di Camerota, dove un giovanissimo è stato pestato da alcuni bulli. Vediamo il titolo, pestaggio sul lungomare, calci alla nuca dai bulli, un ventenne è finito in ospedale. Il video shock che immortala la brutale aggressione è consegnato ai carabinieri con la denuncia, perdonato prognosi di 40 giorni. Un ragazzo poco più che ventenne, brutalmente picchiato a Marina di Camerota, è finito in ospedale. Un episodio di brutale violenza ha sconvolto la tranquillità del lungomare cittadino durante una delle tre serate del meeting del mare. I genitori del giovane, profondamente indignati, hanno presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Marina di Camerota. Nostro figlio è stato preso di mira da un branco di incivili. Le immagini del video che circola sono indescrivibili. Li fanno sapere, la legge deve fare il suo corso e punire severamente i responsabili. Ci spostiamo poi a Castellabate. Giù quattropini, rizzo inevitabili. Mentre a Battipaglia, siamo a centropagina, casa di comunità, ecco 1,3 milioni per l'ospedale. È stato approvato, su proposta del direttore generale dell'ASL di Salerno, l'ingegnere Gennaro Sosso, il progetto di fattibilità tecnico-economico relativo al progetto di ristrutturazione di parte di un edificio esistente per la realizzazione della casa di comunità di Battipaglia. Andiamo poi in basso. Ponte di Caiazzano slitta la riapertura per indagini archeologiche preventive. Servono indagini archeologiche per effettuare poi i lavori sul nuovo ponte di Caiazzano. Una doccia gelata, quella della soprintendenza, fa l'associazione schierarsi cilento Vallo di Diano che sperava in un'accelere apertura. A Vallo della Lucania scontro piano di zona pace fatta tra i sindaci. Mentre per le notizie riportate di spalla, estorsione in Litorania, siamo a Ponte Cagnano-Faiano, presi due malviventi, mentre a Eboli, Conte replica a Cardiello, depuratore già attivo. E lasciamo il mattino di Salerno. Ci spostiamo ora sul quotidiano Le Crona che vediamo. Si parla di sanità nelle pagine di Primo Piano. In particolare si apre con il prossimo evento che si terrà domani venerdì per quanto riguarda l'immunopatologia. Vediamo, sarà il relatore, il dottor Gigliotti. Vediamo immunopatologia renale. Venerdì ci sarà il settimo convegno. Venerdì 7 giugno presso San Luca, centro congressi di Battipaglia. Sarà il dottor Giuseppe Gigliotti, primario dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi, centro prevenzione, diagnosi e cura delle malattie renali del polo ospedaliero Maria Santissima Adolorata di Eboli a dirigere il settimo congresso scientifico di immunopatologia renale che si terrà presso il centro congressi San Luca di Battipaglia venerdì a partire dalle ore 9. La telemedicina, ultime novità con il programma di emodialisi domiciliare. E poi ancora andiamo in basso la nota, solo il 3% di chi entra con nulla ossa sottoscrive accordo di lavoro, questa la nota del senatore di Fratelli d'Italia e Annone sulla questione migranti. Anno c'era inferiore, ancora sanità, rara patologia prenatale, donna dalla luce neonato con aneurisma della vena ombelicale, il parto seguito dal dottor Mario Polichetti e dalla sua equip. Nei giorni scorsi, presso un rinomato ospedale della Campania, una donna di nocere inferiore ha dato alla luce un neonato affetto da una patologia estremamente rara e complessa, un aneurisma della vena ombelicale. Questa condizione ostetrica dovuta all'assottigliamento congenito della parete dei vasi e generalmente associata a una singola arteria ombelicale e a vari esiti perinatali avversi, tra cui aneoploide, cromosomiche, ritardi di crescita, anomalie cardiache e altre malformazioni strutturali fetali. La diagnosi precoce e la gestione oculata della gravidanza sono state rese possibili grazie all'intervento tempestivo e alla competenza del professor Mario Polichetti. E chiudiamo anche questa pagina, restiamo sempre sul quotidiano Le Cronache, andiamo avanti, torniamo a Eboli per quanto riguarda le polemiche sull'ospedale, vediamo ora le polemiche riguardano in particolare il parcheggio, vediamo, parcheggio insufficiente, c'è la protesta, la Will ha chiesto con una nota alla direzione sanitaria di organizzare un incontro con il sindaco Conte per trovare soluzioni. Nel Mirino il parcheggio multipiano dell'ospedale che si saturerebbe già di prima mattina. La ricerca del posto auto inciderebbe su eventuali ritardi nella presa di servizio. E poi interviene il sindaco, gli allarci quasi completati, depuratore ok, dopo qualche attacco polemico, il primo cittadino Mario Conte fa chiarezza sul nuovo depuratore, utenze di Santa Cecilia collegate all'80%, lunedì voluto dai consiglieri Maratea, Massa e Costantino incontro nella scuola Virgilio per capire i dubbi ai residenti. A Oliveto Citra mancano tecnici di laboratorio, ora a rischio i livelli di assistenza SOS CGL lanciato da Capezzuto e Voza. Per le politiche sociali e eboli responsabili e subito maggiori investimenti nel settore delle politiche comunali per l'infanzia richiesta dopo un recente incontro nell'aula consigliare. E lasciamo anche questa pagina, restiamo sempre sulle crona che andiamo ora nell'Occilento, in particolare siamo ad Agropoli, vediamo. Agropoli investe sulla sicurezza, assunti vigili tra cui un candidato. Saranno otto i nuovi agenti della Polizia Municipale che andranno a lavorare in servizio presso l'ente cilentano, tra essi Domenico Camardo a Capaccio. Sono casi di omonimia, coincidenze o semplicemente delle parentele? Irrobussiamo il comando della Polizia Locale con un forte incremento del personale che diventa necessario soprattutto in vista del periodo estivo che vede arrivare in città un notevole afflusso di turisti. Ci inorgoglisce poter dare un'occupazione stabile in un momento di strettezza e di crisi generale del lavoro. Continuiamo a puntare su personale preparato e motivato per rendere sempre più efficienti i servizi. Queste le parole del sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutali Passi, che annuncia il nuovo investimento per la sicurezza in città. E vediamo Domenico Camardo, candidato nella vicina Capaccio Pessum a sostegno di Franco Alfieri nella lista Capaccio Pessum Democratica con Alfieri. Questo almeno tra i nomi che sono stati poi assunti. Ci spostiamo poi a Morigerati Cultura, inaugurata una nuova casetta dei libri. Si tratta di un nuovo spazio dedicato alla lettura per tutti. Inaugurata a Morigerati, la prima casetta dei libri, un nuovo spazio dedicato alla lettura, allo scambio di libri, ma anche alla cultura e alla condivisione. L'opera in legno è stata installata in piazza San Laverio davanti al municipio e permetterà a tutti di leggere i libri contenuti al suo interno. e chiudiamo anche questa pagina. Termina qui la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG alle ore 13 e 45. Grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata.